vaccini da domani prenotazioni senza limiti d'età cambia la sosta in baia flaminia arrivano le strisce blu sherryland inserisce pesaro urbino nella mappa delle meraviglie italiane a col bordo le montefabri un impianto di depurazione e metanizzazione una buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre questa è rossini news questo è il nostro telegiornale che in cui trattiamo tutte le principali notizie della provincia di pesaro urbino e della regione marche telegiornale di venerdì 4 a giugno che apriamo facendo il punto sulla situazione sanitaria nella regione marche dove diminuiscono i contagi e aumentano le vaccinazioni da domani infatti potranno prenotarsi al vaccino anche i marchigiani d'età inferiore ai 40 anni vediamo dettagli fasce anagrafiche e modalità di prenotazione nel nostro primo servizio abbattuta anche l'ultima barriera anagrafica da domani sabato 5 giugno a partire da mezzogiorno nelle marche saranno aperte le prenotazioni per i vaccini anti covid anche alla fascia d'età compresa fra i 12 e i 39 anni l'apertura dello slot era atteso per ieri dai 16 anni in su ma tarda di un paio di giorni allargata anche alla fascia tra i 12 e i 15 anni dopo l'ok alla somministrazione di pfizer in questa fascia giovanile è dunque destinata a salire la quota di marchigiani che ha ricevuto la prima dose attualmente si parla delle 41 per cento della popolazione con un 22 per cento che ha pure completato il richiamo si continuerà a prenotare online l'appuntamento che verrà assegnato nei punti vaccinali almeno per il momento perché il prossimo step sarà quello delle vaccinazioni in farmacia 200 quelle che hanno aderito in regione alle quali dovrebbero essere assegnate a breve 15 mila dosi altre 15 mila andranno alle aziende riconosciute come ab abilitati a vaccinare i propri dipendenti categorie aziendali per le quali ci sarà il via libera da lunedì va avanti la campagna di vaccinazione parallelamente ai riscontri positivi su una pandemia che nelle marche per il secondo giorno consecutivo ha inanellato un confortante zero alla voce decessi i contagi rimangono contenuti una percentuale del 6 per cento di tamponi positivi con il report quotidiano che ha registrato a tal proposito 2540 nuovi tamponi effettuati di cui 1160 nuove diagnosi 71 i casi positivi in regione di cui 26 in provincia di pesaro urbino un andamento che secondo i parametri attuali porterebbe le marche a diventare zona bianca il prossimo 21 giugno nel nostro telegiornale di ieri ci siamo occupati delle tragedie che negli ultimi giorni hanno purtroppo visto morire due neonati in due differenti drammi che hanno segnato famiglie della nostra provincia questo pomeriggio si è tenuto il funerale del piccolo tommaso morto in cula da appena sei mesi a villanova di coglie al metauro l'autopsia ha confermato che il bimbo è deceduto per un probabile quanto raro soffocamento dovuto a un rigurgito di latte che avrebbe procurato un rapido arresto cardiocircolatorio gli accertamenti hanno dunque escluso malformazioni congenite alla base della tragedia ed ora cambiamo radicalmente argomento ci sono infatti novità per quel che riguarda i parcheggi in baia flaminia in questa estate dove nel weekend la sosta diventerà a pagamento su alcuni stalli normalmente liberi da tariffe ci troviamo in baia flaminia davanti al parcheggio più riconoscibile di questa zona il cosiddetto campo di marte oggi è venerdì e questo sarà il penultimo weekend in cui gli stalli con le strisce bianche resteranno tali ovvero liberi da parchimetri e petaggi dal 19 giugno le strisce bianche diventeranno strisce blu e di conseguenza i parcheggi diventeranno a pagamento non era mai successo in quest'area specifica ma il comune ha preso questa decisione radicale per campo di marte e per la sosta nella vicina via varsavia precisazione importante i parcheggi saranno a pagamento soltanto il sabato e la domenica e soltanto nel periodo estivo dunque parcheggio e pagamento solo due giorni la settimana altra avvertenza importante per i frequentatori della baia flaminia non si potrà parcheggiare qui dal 14 al 18 giugno giorni dedicati ai lavori di trasformazione delle strisce bianche in strisce blu si tratta di una decisione presa dal comune per attenuare la sosta selvaggia che puntualmente si assembra in questa zona e ragionare su una mobilità più sostenibile c'è il nuovo parcheggio fra via belgrado e lungo foglia che ha 91 posti gratuiti e soprattutto ci sono i parcheggi scambiatori con le navette gratuite possibile un'altra novità quella di passare nelle vie commerciali di baia flaminia di via bruxelles di via parigi dalla sosta libera alla sosta con disco orario di 90 minuti questa l'intenzione del comune che però valuterà l'opportunità dopo un confronto con i residenti del quartiere sempre a proposito di parcheggi è prevista per domani l'apertura dell'area di sosta di villa marina che sarà funzionale all'imminente pedonalizzazione di viale trieste lunedì partiranno i lavori e dunque ci sarà già il divieto di circolazione sul viale per quattro giorni dopodiché la pedonalizzazione dovrebbe essere attivata al 19 giugno nella sede di conf commercio pesa urbino marca e nord è stata presentata oggi la partnership con sherryland ovvero con la piattaforma italiana che valorizza l'incontro di esperienze turistiche scovando chicche e meraviglie spesso estrane agli itinerari di massa si tratta di un importante salto di qualità nella valorizzazione del territorio provinciale dove parte integrante dell'accordo sarà anche il neonato distretto biologico terre marchigiane ascoltiamo il commento a questa novità dalla voce dei protagonisti sherryland è una start up che si è adatta ai società benefit ovvero una società che si impegna a dare valore al territorio dare ricaduto alle comunità locali e da questo punto di vista noi da un paio d'anni siamo radicati in particolar modo nella provincia di pesa urbino perché abbiamo avviato diverse collaborazioni con i comuni in particolar modo i comuni dell'entroterra che sono diventati amici di sherryland con la conf commercio di peso urbino con oggi lo attestiamo al distretto bio delle terre marchigiane tutte realtà con quale noi insieme in forma coesiva stiamo valorizzando il patrimonio mettendolo in narrazione per far sì che tutto questo raggiunga turisti desiderosi di vivere in modo sostenibile il territorio apprezzando non soltanto le realtà più blasonate quelle più conosciute ma anche quelle meno nota altrettanto piene di valore e di interesse per un turista che vuole sentirsi cittadino temporaneo di queste località noi abbiamo scelto sherryland la piattaforma sherryland che è la prima piattaforma esperienziale nazionale come uno dei veicoli per promuovere ulteriormente il nostro progetto dell'itinerario della bellezza della bellezza è un insieme delle opportunità e delle esperienze che si possono vivere sul territorio nel territorio dei 13 comuni che partecipano appunto al nostro progetto sherryland questa piattaforma straordinaria nazionale che appunto consente di valorizzare ancora di più il nostro itinerario peraltro sherryland essendo nazionale supera di gran lunga tutte quelle che sono le esperienze che nascono un po come funghi sul territorio qui ogni comune si sveglia fa il sito che poi non guarderà nessuno qui invece abbiamo un'opportunità nazionale per far vedere le eccellenze le esperienze che si vivono sul nostro territorio noi come conf commercio ci siamo assunti l'onere di fare conoscere sherryland ai comuni molti della nostra provincia sono già inseriti in questa piattaforma di farlo conoscere la regione abbiamo già fatto ieri l'incontro in regione e poi di fare conoscere questa piattaforma e le sue opportunità alle nostre imprese perché una delle caratteristiche di questa piattaforma è non solo di creare una vetrina per le aziende ad esempio della ristorazione o dell'agroalimentare ma gli da anche l'opportunità di fare commerce quindi di commercializzare i propri prodotti peraltro con delle commissioni che sono molto inferiore rispetto alle commissioni che normalmente pagano fanno pagare i grandi player dell'e commerce a livello nazionale i contatti con con sherryland risalgono prima che il distretto biologico si costituisse quindi già sapevamo di questa di questo strumento innovativo digitale che si sposa perfettamente con lo strumento innovativo della che il distretto biologico ecco nella nostra nel nostro territorio ecco poi ci sarà anche questo distretto unico regionale al quale terre marchigiane ha dato manifestazione di interesse nella nella sua interezza quindi scuole associazioni di categoria compresa commercio marche nord e tutte le aziende agricole facciamo parte diciamo abbiamo dato manifestazione di interesse al distretto unico regionale perché riteniamo uno strumento molto importante vorremmo essere veramente collaborativi per fare veramente la regione marche la più grande regione biologica d'europa un'importante sinergia fra il comune di valle foglie marche multi servizi creerà una netta svolta ambientale nel territorio con un nuovo impianto di depurazione e metanizzazione che servirà le aree del monte di col bordolo e di monte fabbri vediamo a tal proposito le interviste realizzate da andrea sabatini l'operazione consiste in un ulteriore intervento di recupero fognario depurativo lungo l'asta del foglia e è un intervento che ci consente di collegare tutta la parte fognaria dei due borghi monte col bordolo e monte fabbri al depuratore di col bordolo che poi dopo sarà collegato al depuratore principale di monte e quindi sarà ovviamente spento anche quello di col bordolo è un intervento importante e viene da lontano è stato inserito nella pianificazione dell'atto come intervento fognario e abbiamo colto l'occasione come azienda congiuntamente all'amministrazione comunale di inserire nel progetto poi la metanizzazione di questi due borghi è un intervento quello della metanizzazione che va sempre nell'ottica ambientale perché consente a questi borghi di utilizzare un combustibile più pulito più sicuro più conveniente e quindi diciamo che è un contributo chiamiamolo così dell'azienda a fianco dell'amministrazione comunale a rendere questi borghi più vivibili e più competitivi rispetto al passato i lavori cominceranno il prossimo mese di luglio quindi all'inizio di luglio e dovrebbero essere relativamente veloci conseguentemente il lavoro finale anche con i ripristini del manto stradale sono previsti entro giugno del prossimo anno quindi diciamo che almeno una delle due realtà potrebbero essere collegate addirittura con la metanizzazione entro entro il prossimo autunno un investimento direi storico di due milioni di euro programmati dal lato grazie all'allora presidente tagliolini a marche multiservizio amministratore delegato di viroli che sono sull'ambiente sulla qualità dell'aria col metano al posto delle vecchie bombole del gaso i bomboloni e con un forte valorizzazione anche del bene perché è chiaro che il metano significa la depurazione valorizzare almeno un 20 per cento in più i fabbricati e soprattutto ecco un luogo come uno dei borghi più belli d'Italia che è il centro storico Montefabri e avere la depurazione e la metanizzazione significa anche avere la possibilità di recupero dei beni perché senza la depurazione e metanizzazione soprattutto la depurazione era vietato anche recuperare dei beni quindi e poi consente mette i cittadini e tutti uguali nel senso che quelli che stanno nelle colline nei borghi storici nell'ambiente il paesaggio incontaminato del castelli di sant'angelo in lizzo di col bordo di Montefabri alla stregua di quelli che stanno in pianura che hanno il gas metano e che hanno diciamo la depurazione i collettori sono milioni e milioni di investimenti che consentono di dare opportunità di lavoro alle imprese anche le imprese locali quindi benvenga questa operazione di risanamento igienico sanitario tutela dell'ambiente del paesaggio pesaro è una città per tutti e questa la tematica alla base del lavoro degli studenti della quarta bt dell'istituto tecnico bramante genga vincitori delle concorso nazionale i futuri geometri progettano l'accessibilità questa mattina gli studenti sono stati premiati con attestati al merito dal presidente del consiglio comunale marco perugini dalla garante per i diritti delle persone con disabilità del comune marusca palazzi e dal presidente della provincia di pesaro urbino giuseppe paolini e domani sabato 5 giugno sulla spiaggia libera di sottomonte banca mediolanum marche organizzerà con i volontari di plastic free o di v onlus una giornata di raccolta della plastica per ripulire la costa si conta di raccogliere oltre sei quintali di rifiuti appuntamento nella spiaggia libera di sottomonte alle ore 8 e 30 e dall'8 giugno al 13 luglio il teatro le ombre proporrà nella sala ex cinema di borgo santa maria il festival di formazione e benessere teatrale dal titolo orizzonti teatrali estivi sei appuntamenti di un festival che sarà aperto dall'8 al 13 giugno col primo appuntamento se con cesar bri e laboratorio intensivo per adulti dal titolo riparazione un laboratorio in cui si affronteranno i temi principali alla base della poetica di bri per la formazione di un attore poeta la scuola di lingue in tutte le lingue ha organizzato un campo estivo di inglese per i bambini dai 7 agli 11 anni per i mesi di giugno e di luglio la didattica si svolgerà in spiaggia presso lo stabilimento paradise beach di viale trieste a pesaro e nella scuola nella sede della scuola di via mameli 44 dalle ore 8 alle ore 13 e 15 scopo del progetto è quello di creare un ambiente english speaking dove i bambini saranno incoraggiati ad utilizzare la lingua inglese ed ampliare le conoscenze tramite giochi e attività creative divertenti iscrizioni ancora aperte al numero 351 8808 200 il presidio slow food pesaro organizzato per domenica 6 giugno un incontro con i soci della cooperativa piccoli pescatori di pesaro con visita guidata al museo della marineria washington patrignani la disponibilità dei pescatori del museo darà modo così di scoprire il mondo della piccola pesca pesarese dalla sua nascita ai nostri giorni sarà anche un focus su pesca sostenibile tecniche di pesca e su come riconoscere pesce fresco dal congelato o da quello da allevamento una domenica che sarà chiusa da un pranzo preparato dal ristorante farina per partecipare si può contattare il numero 329 61 85 153 il post apprezzato giornale online diretto da lucasofri porta a pesaro il suo festival talk una prima edizione con grandi ospiti del giornalismo e della cultura che si terrà in città fra il 18 e il 20 di giugno da alessandro baricco francesca mannocchi passando per francesco costa e vasco brondi sono questi alcuni dei grandi nomi della cultura del giornalismo e del dibattito politico che dal 18 al 20 giugno animeranno talk la giornata di incontri pubblici del quotidiano online il post diretto da lucasofri arriva dunque a pesaro dopo le due edizioni di faenza approfitteremo molto volentieri del fatto che tutti quanti abbiamo una gran voglia con le cautele del caso di tornare a vederci fuori parlare di cose organizzare eventi di questo genere e diciamo ci abbiamo messo quello che potevamo un po' diciamo di competenza del post nel raccontare le cose è un po di per fortuna relazioni e collaborazioni ricche di ospiti da sandro baricco annalisa cuzzo crea francesca mannocchi a vasco brondi a marino sinibaldi insomma è un programma di cui siamo molto contenti e che come dicevate è traboccato dall'idea originaria di una sola giornata anche poi nella precedente nella successiva appunto per ricchezza gli appuntamenti saranno dunque in piazza del popolo al centro artivisive pescheria per una città di pesaro che cavalca la ripartenza con due prime volte in due weekend di giugno ravvicinati la prima volta di talk una settimana dopo la prima del caterraduno dopo il weekend del caterraduno altra novità di manifestazione nazionale che approda a pesaro con una tappa significativa in questo caso il talk che è il format diciamo di incontro con il pubblico gli abbonati e i cittadini del del post che questo sito di informazione che sta diciamo in parte rivoluzionando l'informazione politica culturale a un certo diciamo livello di approfondimento e approda pesaro faenza è la base naturale hanno già fatto due edizioni importanti del del talk a faenza anche l'anno scorso in quella finestra covid tra la fine dell'estate ma c'era appunto quest'idea di arrivare a pesaro per una formula ancora qui che doveva essere una giornata una giornata di approfondimenti e poi diciamo si è allargata a tre nel senso che inizieremo venerdì 18 per terminare domenica mattina a 20 e si sposa per quest'anno anche logisticamente dal punto di vista io credo alla fine che in termini di incontro di pubblico e di protagonisti anche con la mostra del nuovo cinema con cui condividerà gli spazi la pescheria dove siamo ora per gli incontri diciamo proprio piccoli termini di capienza di pubblico e piazza del popolo dove invece potremmo arrivare fino a 400 persone una bella opportunità per lanciare da questo punto di vista un'estate che speriamo sia veramente di ripresa ma che soprattutto sia anche di creazione di nuovi di nuove opportunità per la città sicuramente che a terra l'uno se se ne sarà la possibilità ma anche il posto dove chiaramente i contatti sono anche più avanzati ci piacerebbe che possa diventare per qualche anno insomma tanto funzionare questo esperimento e diventare un appuntamento regolare dell'estate culturale peserese e con questo servizio si chiude qui questa nostra edizione del telegiornale rossini news prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata che alle 21 e 15 vedrà un approfondimento sulla figura imprenditoriale di alceo moretti nel centenario della sua nascita appunto nato nel 1921 alceo moretti è stato un grande protagonista dell'imprenditoria non perdetevi storie e aneddoti di alceo moretti alle 21 e 15 e torna domani puntuale l'informazione su rossini tv alle 7 e 20 in diretta con la rassegna stampa di quotidiani locali buongiorno rossini per l'occasione condotta da marco cadedu e vi ricordiamo come sempre di scaricare per chi ancora non l'avesse fatto l'app di rossini tv uno strumento fondamentale per avere a portata di click la possibilità di rivedere i nostri programmi le notizie o semplicemente per inviarci segnalazioni ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale da parte mia e di tutta la redazione di rossini tv il più cordiale saluto è una buona continuazione di serata con i nostri programmi